La polizia francese collaborazionista ha 42.000 effettivi e sono loro che rastrellano gli ebrei e li portano al velodromo di Parigi per essere deportati. Chi fornisce in tutta Europa le liste delle anagrafi di dove abitano gli ebrei? Chi li fornisce gli elenchi degli ebrei romani nel rastrellamento dell'ottobre del 43? Non possono saperlo i nazisti, devono avere la collaborazione, come hanno in Slovacchia, come hanno in Polonia, come hanno in Ucraina. In Ucraina molte volte quando arrivano i nazisti gli ebrei sono già stati uccisi. E ovviamente i collaborazionisti servono per combattere chi invece dentro quei paesi ha scelto di stare dall'altra parte. Ha scelto di combattere il fascismo e il nazismo. Ha scelto di stare con gli alleati, anche qui, con una gamma enorme di posizioni politiche, in tutti i paesi. Così come è una gamma enorme di posizioni politiche la grande alleanza antinazista. Italia compresa, che ha una storia particolare, perché non è solo un collaborazionismo, e anche l'eredità di un regime di vent'anni. Quindi io inquadro così le resistenze europee, i collaborazionismi europei, dentro questo grande scenario. Solo così possiamo vederlo e capirne anche i drammi, i conflitti, le violenze. Guardate, io ho parlato della violenza della prima guerra mondiale, ma la seconda guerra mondiale ovviamente supera e di molto l'esperienza della prima guerra mondiale. Io mi sono preparato anche delle citazioni, ma adesso non le leggo. Vi dico solo questo, che a fronte dei crimini contro l'umanità che i nazisti fanno ad Est, perché di questo si tratta, una guerra di annientamento contro i civili. I civili non sono obiettivi collaterali, scusate, non sono danni collaterali. I civili sono un obiettivo esplicito nella guerra razziale. E allora voi vi potete immaginare che cosa succede quando l'armata rossa va verso Ovest. Che cosa succede quando l'armata rossa arriva nei territori abitati dai tedeschi, nella Prusso orientale, a Vienna? Succede che la violenza, purtroppo non si porge l'altra guance. La violenza è durissima. La violenza è persino autorizzata dai comandi come se ci fosse la consapevolezza che se non si assegna un periodo in cui la violenza, la vendetta, può essere lasciata senza briglia, non si riuscirà a voltare pagina. Questo, guardate, lo fanno anche gli americani quando liberano i campi di concentramento e lasciano ai prigionieri 24 ore di tempo per fare quello che vogliono con le guardie. E' la tragedia dell'umanità questa qua. E' lo sprofondo dell'umanità. Però noi dobbiamo cercare, capite, lo sforzo è quello di cercare di capire con gli strumenti della conoscenza come si arriva a quel momento. Perché se noi ci limitiamo a dare i giudizi secondo la nostra etica pacifica di persone fortunate del 2015, buonanotte al secchio, non so quanto capiamo. Cioè non si tratta di esprimere dei giudizi in questo caso, ma di capire che persino le autorità concedono uno spazio alla violenza. Perché quello che è successo è enorme. Io personalmente ho intervistato, reduci dai campi, che adesso non ci sono più naturalmente, ma che erano prigionieri politici. Io mi ricordo un signore, una persona, cioè io una persona più mite di quello, non lo so, non me lo riesco a immaginare, era un artigiano. L'ho intervistato nella sua bottega mentre metteva a posto degli orologi con il suo camice bianco, una persona minuta con gli occhiali. E lui mi ha raccontato la sua storia e mi ha raccontato di cosa è successo quando gli americani hanno liberato il suo campo e cosa ha fatto lui. Ha chiuso il negozio prima di dirmi e si è messo a piangere, ma me l'ha detto. Lui ha fatto delle cose in cui lui non si riconosce. Non sa dire che era lui, ma era lui. Allora, quando i sovietici arrivano nei territori tedeschi, ci sono i volantini che girano nell'Armata Rossa, fatti dai comandi, che dicono uccidi adesso soldato tedesco, soldato dell'Armata Rossa, siamo finalmente sul territorio tedesco. Uccidi e prendi la donna tedesca come tua preda e uccidi anche chi non è ancora nato. Uccidi la bestia tedesca. E quando i sovietici arrivano a Berlino e a Vienna stuprano decine di migliaia di donne. Poi, dopo qualche giorno, l'ordine militare viene restaurato e se commetti uno di questi terribili reati, vieni fucilato dal plotone di esecuzione. Però tutto questo ci interroga sulla dimensione della violenza, cioè di come sia stato possibile un livello così elevato della violenza. finiscono dicendo questo. La vittoria del fronte alleato su Hitler offre una seconda chance alle democrazie. Quelle democrazie su cui molti non avrebbero scommesso un penny negli anni 30 riescono a vincere la guerra. Certo, con l'alleanza determinante sul piano militare dell'Unione Sovietica che paga forse il prezzo più alto nella guerra in termini di distruzioni materiali e umane. Ma per quanto riguarda le democrazie occidentali nulla sarà come prima. Per me non è azzardato parlare di rivoluzione del 1945. perché anche nei paesi che non avevano avuto regimi autoritari o il fascismo c'è la consapevolezza che non si può riprodurre la stessa cosa degli anni 30. Anche qui avrei tante citazioni. persino un uomo che potremmo definire di destra come Charles de Gaulle eroe della resistenza francese nazionalista, repubblicano che si riconosce è un uomo di destra, è un generale ma è un uomo altamente fedele ai principi della Repubblica e della grande rivoluzione dell'89 è un antifascista e de Gaulle scrive già nel 40 dopo la sconfitta e dice la vecchia democrazia parlamentare degli anni 30 è una cosa morta dovremo rifare tutto dovremo ricostruire un rapporto diverso con la società e soprattutto le democrazie dovranno rifondarsi come democrazie sociali cioè includere i diritti sociali tra i compiti dello Stato e sarà così sarà così in Gran Bretagna sarà così in Francia è così nella Costituzione italiana quale altro significato può avere quell'articolo 1? il diritto al lavoro come primo diritto tra i diritti sociali considerati considerati adesso dopo il 45 finalmente diritti di cittadinanza è questo che rende così diverso l'esito della seconda guerra mondiale dalla prima guerra mondiale una guerra in cui i vincitori sono capaci di rifondare il proprio sistema politico e le proprie società mi fermo grazie 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 al professore Bertuccelli che ha dato veramente tantissimi stimoli spunti di riflessione a voi la parola se qualcuno del pubblico vuole intervenire può alzare la mano e gli verrà portato il microfono grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Un mezzo complotto, cioè fosse un agguato quasi costruito a misura per creare un motivo per poi fare il conflitto. Cosa che non succede nella seconda guerra mondiale. E un'altra cosa, ma proprio una battuta. Siccome ho seguito per passione gli aspetti della radio durante la guerra, quanto la radio sia stata aggregante per l'aspetto politico e aggregante per l'aspetto invece di controffensiva, di difesa. C'è la radio che lei non ha nominato, proprio una battuta su quello. Invece quell'altra mi interessava più dal punto di vista della strategia. Grazie. Sì, sì. Raccogliamo qualche intervento che così... No, chiaro che capisco che... Insomma, dopo aver parlato tanto non è semplice intervenire o controbattere. Diciamo questo. Intanto Sarajevo 1914... È un attentato che in un'Europa con più anticorpi forse sarebbe stato gestito. Però se lo inquadriamo dentro un po' il quadro che ho descritto, non c'è veramente la consapevolezza che anche dichiarando guerra si sarebbe fatta quella guerra. Cioè, l'idea è... Bene, allora, io dichiaro un ultimatum alla Serbia, ci sarà una guerra regionale, probabilmente, come del resto c'erano già state già due guerre balcaniche nel 1912 e nel 1913, che non avevano prodotto una guerra mondiale. In quel momento, invece, il sistema di alleanze che si era costruito, la triplice intesa e la triplice alleanza, scatenano una reazione a catena. Allora, è chiaro che io non ho avuto il tempo di dire che comunque grandi tensioni internazionali ci sono, non c'è dubbio. C'è una grande competizione soprattutto per i domini coloniali. Pochi mesi prima ci sono state le crisi in Marocco, tra la Francia e la Germania, cioè c'è un... ci sono stati che sempre di più si arroccano in difesa delle loro prerogative, c'è un sistema di protezione economica, no? Un sistema di protezionismo molto accentuato nel continente e questo crea naturalmente tensioni e competizione. Per cui io direi così che Sarajevo 1914 provoca un conflitto che non è ritenuto, non si pensa a un conflitto così generale e così devastante e però è come una, come posso dire, come un fiammifero buttato dentro un'Europa che ha un carburante acceso, diciamo, ha un carburante disponibile ad essere acceso perché ci sono dei contrasti molto forti tra, da una parte, le grandi potenze occidentali, Francia e Germania e Germania e Germania e Inghilterra, o Gran Bretagna, che sono, diciamo così, li potremmo definire gli stati imperiali, nel senso che sono grandi stati con imperi coloniali, con la Germania di rincalzo, perché la Germania è rimasta esclusa dalla grande spazio.